La storia di una giovane e bella ragazza alla ricerca della propria identità in un nuovo mondo. È proprio vero che più piccolo è il paese e più grandi sono i guai. Ti giuro che se non fosse per mio padre io me ne sarei già andata. Maria! Sei diventata rossa. Ho deciso di licenziarti. Tra dolori e inganni trova l'amore coinvolgente e sofferto di Giampaolo. Maria, da lunedì 27 febbraio alle 16.